ciao 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 grazie di essere qui 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 come oggi oggi se sentite questo è il proiettore e per oggi va così prometto che la prossima volta lo sposto ne uso un altro è un proiettore che ho comprato per l'evento e che ovviamente in gran distanza invece non si sente comunque oggi voglio farvi un riassunto parlarvi e mostrarvi qualcosina dell'evento del mio primo evento di smr live quindi in persona che è stato pochi giorni fa per me cioè sabato 16 marzo e l'abbiamo fatto a Milano e hanno partecipato 40 persone 40 di voi e è stato qualcosa di magico molto più bello e emozionante e mi ha fatto proprio bene il cuore di quanto potessi immaginare anche la reazione di chi ha partecipato è stata veramente cioè come speravo in realtà perché avevo altre aspettative però è stato veramente bello vedere quanto appunto questo evento abbia effettivamente anche preso e fatto provare com'è l'smr di persona che è molto molto più bello e quindi partiamo dall'inizio per chi se lo fosse perso appunto il 16 marzo ho fatto il mio primo evento smr di persona e vi metterò qualche clip adesso e l'ho fatto perché uno secondo me portare un pochino l'smr fuori e incontrare la mia community è bellissimo è sempre stato un mio sogno e l'ho fatto anche perché secondo me l'smr provato di persona provato davanti a chi lo fa è tutta altra cosa è molto più potente ho studiato una performance un po' particolare anche un pochino più interattiva che coinvolgesse più sensi perché appunto lì era possibile quindi banalmente anche il senso dell'olfatto e sono molto soddisfatta sicuramente ci sono cose da migliorare però per essere il primo evento e tra l'altro solo il secondo evento smr in italia di sempre direi che è andato più che bene e quindi vi racconto un attimo passo per passo prima però di raccontarvi un pochino vorrei ringraziare Revolut che è stato lo sponsor di questo evento e che mi ha permesso la realizzazione Revolut è una banca digitale che io e mio marito utilizziamo da più di 3 anni e quando viaggiamo utilizziamo sempre le carte Revolut perché ci permettono di risparmiare molto quindi io vi lascio il link qui sotto di Revolut se vi volete iscrivere e iscrivendovi attraverso il link qui sotto a Revolut si riceve cashback di 20€ sui primi acquisti e appunto volevo dedicare un secondo a Revolut perché è stata ovviamente una parte importante senza la quale non avremmo potuto organizzare questo evento e coinvolgere comunque tante persone quindi davvero grazie per aver creduto in questo evento e appunto tra l'altro mi ci trovo veramente bene da anni io adesso appunto vi metto un po' di clip io ero emozionatissima quando quando sono entrate le persone quando siete entrati e ero tutto così Dio 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 perché appunto era la prima volta anche per me e penso che sia stato magico appunto vedere anche l'emozione di tutti per una cosa così unica una cosa che non avevamo mai fatta insieme e è stato veramente bellissimo anche vedere l'emozione e sentire dopo le testimonianze delle persone che effetto ho avuto da quanto mi seguono è impagabile e comunque c'è stato appunto questo evento e si sono appunto seduti tutte nelle poltroncine tra l'altro piccola parentesi prossimi per i prossimi eventi assolutamente cambieremo questa cosa perché capisco che le poltroncine senza schienale forse potevano essere sostituite con qualcosa di più comodo purtroppo non per quella data era finita la disponibilità di tutto da pettina yoga in cui ti appaggia un po' di più tutto quindi abbiamo dovuto usare questa alternativa però comunque le persone che hanno partecipato hanno detto che sono rilassate comunque quindi per quanto voglia assolutamente e migliorerò questo lato dell'evento comunque non questo questo particolare non l'ha rovinato tra l'altro assolutamente vorrei farne altri altri eventi in altre in anche altre città d'Italia data appunto la anche la richiesta le richieste che mi sono arrivate di farne in altre parti d'Italia e non abbiamo ancora deciso nelle date nei luoghi e vi chiedo se siete interessati a partecipare a questo evento e siete maggiorenni o farete la maggioretà fra pochissimo vi chiedo di compilare il documento il google form che trovate qui sotto in descrizione e ve lo lascio anche nel primo commento attraverso questo questo piccolo questionario capiremo insieme insomma a team che mi ha aiutato a organizzare questo evento capiremo dove c'è più richiesta per i prossimi eventi perché magari io penso che che ne so Bologna abbia una certa richiesta in realtà magari un paesino più piccolo ne ha di più quindi dobbiamo un attimo capire anche per capire appunto quante date fare e dove quindi appunto siete interessati a partecipare ve lo lascio eh ve lo lascio qui e vi ringrazio davvero per il vostro aiuto perché insomma è una è una è una grande mano a aiutare l'organizzazione ditemi anche comunque nei commenti in generale sono curiosa se qualcuno di voi si è incuriosito da questo evento e eh vorrà magari partecipare al prossimo ditemi che appunto sono curiosa e nulla allora e l'evento in sé la performance in sé avevo questi microfoni in particolare e avevo delle cuffie da sale in disco come tutti i partecipanti quindi eh si sentiva perfettamente in alta qualità ciò che eh dicevo ai microfoni si sentono destra e sinistra si sentono un po' tutti i rumori anche quelli un pochino più delicati eh e e e già secondo me questo cambia perché molte persone costamente magari hanno delle cuffie non eh pazzesche per ascoltare i video la qualità su youtube viene compressa la qualità audio e video quindi eh sicuramente l'esperienza anche audio era molto migliore eh rispetto a a cui erano abituati e poi ho ho proprio pensato a qualcosa di immersivo a metà a metà a metà esibizione diciamo così ho anche fatto annusare un palm rilassante abbiamo fatto poi un piccolo rilassamento guidato ho fatto una visualizzazione che è piaciuta tantissimo tutto io ho notato che è una visualizzazione un po' particolare con dei suoni insomma è stato un po' diverso dal solito è piaciuto molto e comunque metterò magari alcune clip cioè alla fine vi metto alcune clip però eh tutto l'evento tutto l'area dell'evento tutto il video dell'evento nella sua interezza sarà esclusivo appunto per chi ha partecipato l'esibizione durata 56 minuti quindi volevo che durasse un'ora quindi effettivamente non non mi riconometrato non ho guardato però il tutto è durato esattamente quanto doveva durare che secondo me è giusto appena arrivati hanno preso e ho mostrato un po' cosa c'era nella goodie bag avevamo appunto fatto la shop per l'evento e spoiler del nuovo logo tra l'altro che arriverà presto sul canale e dentro c'era anche magari sulle cose all'interno poi miglioreremo ecco si accettano suggerimenti in generale c'era uno squishy diverso per ognuno e questo l'ho fortemente voluto perché come vedrete anche alla fine bisogna stare un po' fermi no? e anche i movimenti in generale soprattutto le persone più vicine si sentono dai microfoni quindi ho pensato che uno squishy da poter passarsi fra le mani con cui poter giocherellare mentre si ascolta fosse utile appunto soprattutto per chi magari va fatica un po' a stare fermo insomma anche io per prima magari sicuramente sarete tutto il tempo a fare così con lo squishy e appunto alcune persone hanno ricevuto anche il lama che era troppo bellino poi c'era 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 una maschera occhi questo perché io adoro farle mi rilassa tantissimo e ho pensato che potessero farle va bene lo potevano fare anche lì sia comunque se no alle la prossima volta che avessero ascoltato un video smr avrebbero potuto utilizzare questi patch per occhi c'erano poi questa pipita rilassante questo è una specie di te molto buono devo dire che tra l'altro se c'era un' abbondanza quindi se ne poteva prendere benissimo anche più di uno poi c'era una bustina di tisana anche qui proprio pensierino ma l'ho pensata perché la prossima volta che si faranno insomma che faranno questa tisana sarà ancora villassante perché sarà regata all'evento e e poi c'era questo che contiene dei chicchi di caffè ed era appunto anche una parte interattiva in cui sia la carta di riso che più utilizzato sia appunto poteranno usare il caffè mentre faceva scondire il suono poterlo toccare tutto secondo me è molto carino e appunto c'erano alcuni chicchi e a me il caffè piace molto tra l'altro a comodore quindi secondo me insomma è piaciuto molto anche fare questa cosa e avendo utilizzato un po' anche la carta in insomma poterlo anche toccarla giocarci eccetera come altro diciamo piccolo souvenir altra cosina da portarsi a casa dall'evento questo l'ho fatto vedere su instagram ho comprato una macchina che stampa insomma una instax instax polaroid comunque le chiamo adesso che non è il nome corretto che appunto stampa le foto in stampa le foto e questa ho guardato ho voluto prendere quella con le foto un po' più grandi un po' più di alta qualità e questo ha anche il flash perché comunque era dalle 5 alle 8 quindi poi quando all'inizio alle 20 erano le 6 e qualcosa e volevo mi serviva assolutamente il flash sennò non sarebbe uno da bene le foto click e quindi ho avuto la possibilità poi di fare le foto con tutti quelli che hanno partecipato e la foto da polaroid è rimasta come ricordo insomma la data e tutto quanto e ovvio abbiamo fatto anche le foto col cellulare però secondo me una polaroid è più ricordo è più carina da avere è un po' più unica e per l'ansia insomma che non ce ne fossero abbastanza ho preso 100 insomma per fare 100 stampe e per magari qualcuno veniva con gli occhi chiusi qualcuno veniva male quindi però è stato molto bello anche a me piace tanto fare proprio le foto vedere come veniva lasciare proprio anche la firma sopra già la data e l'evento sono contenta di aver avuto insomma questa idea quindi dopo l'esibizione pian piano si sono riprese tutto quanto dopo è stato il momento voto e il rinfresco ecco che tra l'altro è molto buono io non ne ho mangiato tanto perché ovviamente è stata molto impegnata ma era molto buono c'era sia da bere sia da mangiare e insomma per rifocillarsi dopo il relax e la parte dopo l'evento era sono onesta quella che mi preoccupava di più perché vuoi pure che le persone si annoiassero in realtà posso dire che per quanto molte la maggior parte delle persone siano venute da sole non se ne sono andate da sole cioè hanno conosciuto altre persone e che si erano creati appunto di gruppetti in cui parlare tutto quanto io pian piano mi inserivo nelle chiacchiere ed è stata molto bella l'atmosfera rilassatissima super informale l'ambiente l'atmosfera che si è creata è stata proprio bella e infatti devo anche assolutamente ringraziare tutte le persone che hanno partecipato che hanno anche reso l'atmosfera così bella perché penso che questo evento e parte della buona riuscita di questo evento siano anche le persone che partecipano è un evento che creiamo insieme quindi l'entusiasmo la dolcezza la sensibilità di chi ha partecipato è stata veramente a parte che un balsamo al cuore veramente e poi è stato fondamentale quindi ero proprio grata 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 alcune persone addirittura mi hanno detto io ho già il biglietto per il prossimo evento chiaro mi raccomando nel senso cioè partecipero sicuramente per il prossimo evento tanto è piaciuto mi hanno raccontato tutte insomma le storie c'era una ragazza che mi ha fatto molto ridere perché ha compiuto agli anni due giorni prima dell'evento ha compiuto 18 anni quindi per due giorni è riuscito a partecipare oppure un insegnante che fa ascoltare l'audio dei miei video notoi king durante le verifiche per rilassare gli alunni no ragazzi non capite un'altra ragazza che mi diceva che quando ero incinta sentiva tutto la figlia nella pancia che si muoveva quando lei si rilassava che era lì che si muoveva e reagiva insomma quindi no veramente mi ando a piangere e perché sono incredibilmente grata di aver potuto far prendere vita a questo evento e non vedo l'ora di farne altre volte non vedo l'ora è stato bellissimo e è stato bellissimo anche perché ho visto che è stato bellissimo anche per chi ha partecipato c'era anche ho provato tantissimi aggetti del canale anche se non ho usato tutto non lo so non ho usato i gelatini ma li ho portati così anche è strano vederli toccarli e c'era anche una postazione con il microfono il bluietti con queste cuffie attaccate al computer in modo che si potesse anche provare il microfono e e sentire i vari suoni ed altri provare i vari oggetti i brushing a rilassarsi da soli secondo me è stranissimo cioè è bellissimo quindi sono stata veramente veramente contenta che tutte insomma le idee siano siano piaciute e nulla io adesso vi lascio il un po' di clip con con un po' tutti dei momenti dell'evento e mi raccomando mi raccomando se siete interessati appunto a partecipare a degli altri e fate il questionario perché è molto importante e io ringrazio una una le persone che hanno partecipato perché veramente avete reso questo evento speciale e tutte le persone che in generale mi hanno supportato hanno supportato questa idea questo evento grazie e ho voluto fare questo piccolo video di recap perché volevo anche mantenerlo come ricordo ricordarmi l'emozione che ho provato quindi ovviamente non farò un video recap per tutti gli altri eventi però mi sembrava giusto appunto dedicare questo video a questo quindi il prossimo video invece sarà classico normale torniamo come prima ok di questi microfoni oggi mi piace particolarmente forse anche perché mi sento meglio con queste cuffie e vi lascio le clip e si sente che sono ricamate su un tipo cuscinetto non pensavo fossero così tanto sensibili questi microfoni devo essere sincero usandoli solo a casa mia in particolarità fra i ricami io non so se sentiate anche questo suono dentro dentro è fatto di paglia una paglia rosa forse plastica e fa questo suono che mi piace tantissimo e ho pensato che sarebbe stato carino mentre vi faccio sentire il suono di questi chicchi che vi poteste annusarlo toccarlo usare un po' o anche altri sensi sì qui vi consiglio di chiudere gli occhi non so se questi campanelli vi ricordino qualcosa magari delle mucche al pascolo oppure a me ricordano un po' come il suono che potrebbe fare la polvere magica di una fata e poi arrivo e ancora qui e ora qui e ora un po' lontano e vicino e ancora mi allontano mi allontano mi allontano mi allontano e mi avvicino vicinissimo e adesso il collo se volete muovitelo un pochino liberatelo un po' dalle tensioni e adesso e adesso arriva l'ora del viso che per me è quello più potente la mandibola sicuramente è contratta quindi prova a concentrarti su tutti i muscoli sul mento sulla mandibola puoi aprire leggermente anche la bocca per rilassare il viso vi voglio portare in un bosco può essere il bosco che volete voi può essere appennino può essere una pineta al mare può essere una foresta tropicale su un'isola alle Maldive può essere quello che vorresta vogliate sentite i vostri passi sulle foglie sui rami camminate piane in questa foresta ho provato a ricreare il suono dei 5 d il più possibile con questo spero ci assomigli un po' spero che questo piccolo riassunto e questo assaggio dell'evento vi abbia rilassato e io penso proprio penso proprio penso proprio penso proprio ma penso proprio 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 si aggiunta l'ora di abbassar le luci rispettamente fare orle a engolino il che è un buona buonanotte a te a te buonanotte buonanotte te soñi d'oro good night good night sweet dreams sweet dreams buenas noches buenas noches tu 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 se sueñas buon nuit buon nuit buon nuit vede show your head good night leganost leganost buona dei piccoli pasticcini alla fragola un bazzone che li spera